Per la verità io oggi sono qua per ascoltare quali sono i bisogni formativi del settore e dare una risposta diversa per ogni bisogno diverso, cioè ci sono dei bisogni formativi che si possono ottemperare attraverso delle risorse che mette in campo lo Stato, ad esempio la formazione continua, quella che si fa nell'ambito delle aziende. Ci sono delle esigenze a cui si può ottemperare invece con i fondi europei. L'obiettivo di oggi è cercare di ascoltare e capire di cosa ha bisogno il settore e trovare poi per ognuno dei bisogni una soluzione adeguata. Allora, approfitto però per dire che per quanto ci riguarda nel mondo della formazione in generale c'è una grande novità. Noi da un anno a questa parte abbiamo il catalogo delle competenze e il catalogo delle competenze professionali. In questo catalogo ci sono una serie di figure professionali che riguardano il mondo della pesca. Una delle prime cose che può scaturire oggi è che le attuali figure professionali non ottemperano a tutti i bisogni. Potrebbe pure esserci l'esigenza che ci sia una nuova figura professionale. In questo caso attiveremo quello che si chiama il tavolo regionale. Nell'arco di pochi mesi si ottiene l'inserimento nel catalogo delle competenze della nuova figura professionale. Quindi una fase di ascolto e poi un momento operativo per mettere in campo tutte le proposte che emergeranno dall'incontro di oggi. Oltre al monaco temporaneo ho portato un rappresentante del convento, cioè assieme a me c'è il dottor Giudici che è un dirigente dell'amministrazione che peraltro ha una sua esperienza specifica già nel campo della pesca, è stato dirigente del settore negli anni pregressi, oggi è un dirigente dell'assessorato alla formazione e la struttura burocratica che deve garantire la realizzazione dei percorsi che abbiamo oggi indipendentemente da chi sarà da qui a quattro mesi l'assessore alla formazione. È un fatto imprescindibile, la formazione è una necessità avvertita ed è legata soprattutto per l'attività della pesca anche a un elemento fondamentale che è quello della protezione del mare, l'idea che è venuta dagli armatori siciliani, l'idea che è venuta dal coordinamento della filiera ittica, non è soltanto l'idea di legare la formazione a tutte le attività della filiera, all'industria, al commercio, alla trasformazione, ai servizi legati al sistema pesca, ma soprattutto in modo particolare ai pescatori e a tutto quello che gira intorno a un'imbarcazione o a un natante, perché l'idea che è venuta è un atto di grande sensibilità, questa è la vera novità, gli armatori dicono creiamo un periodo di fermo biologico più lungo, però utilizziamo questo periodo per fare riposare il mare, ma soprattutto per formare gli addetti, per riqualificarli, per dirne una, e questo valga per tutti, i nostri pescatori non parlano spesso le lingue, nell'inglese e nel francese, e quando ci sono i sequestri in alto mare, questi non si capiscono con i miliziani o con i militari, già questo è un fatto che li metterebbe sicuramente al riparo di rischi di incomprensioni, dai quali i rischi spesso scaturiscono anche delle attività negative. Oggi invece c'è una necessità ancora più importante, quella di qualificare alcune figure della filiera della pesca e in particolare nel lavoro a bordo, perché questo lavoro serve a mettere in piedi un progetto di valorizzazione del prodotto e quindi del sistema pesca.